La visione di Carlo Paolini sulla storia del Petruzzelli, questo enorme baraccone è diventato ormai. Ma questa è una vecchia storia che ormai si stracina da lustri perché è una storia non legata alla cultura della città di Bari ma al posizionamento delle varie lobby di potere economico e politico che hanno attraversato dalla distruzione del Petruzzelli alla sua ricostruzione. Il problema politico e culturale che doveva essere posto era la visione di un teatro che era il punto di diamante di una rete della cultura barese. Ora non c'è la rete quasi e non c'è la punta di diamante. Esatto, infatti venendo meno questo riferimento di raccordo i piccoli teatri piano piano sono destinati a scomparire. Allora il problema è che Bari manca un progetto della cultura da tanto 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 tempo che valorizza le esperienze locali e che culminano poi in una visione strategica del Petruzzelli in grado anche di proporre all'Italia e all'Europa e al mondo delle produzioni proprie come alle volte è stato fatto anche nel passato. Se dovessi chiedere come giudica l'opera del commissario del Petruzzelli? Ma anche questa l'opera del Petruzzelli ma anche la stessa opera dell'ex presidente sindaco Emiliano io non le giudico in maniera positiva perché quando le soluzioni, le decisioni vengono prese in maniera unilaterale spostando la bandiera con il vento della propria appartenenza è chiaro che poi quando cambia il vento la bandiera si sposta e va tutto a mare. Così è accaduto nella gestione di Emiliano dove è cambiato il vento della bandiera e sono stati mandati a casa operatori, lavoratori che da tempo stavano lì dentro. Quindi il problema è distaccarsi dalla logica del potere, della gestione del potere per il potere e buttarsi in una visione reale di valorizzazione del teatro, dei teatri, capace anche di portare la gente. Immaginiamo per un istante se in tutti questi anni Fiera del Levante e Teatro Petruzzelli con gli altri teatri paresi avessero legato in sinergia, significava sviluppare entrambi. Invece la Fiera non è una ricchezza per la città e lo si è visto. Il Teatro Petruzzelli rimane chiuso in se stesso, si fanno anche delle belle iniziative però poi alla fine che cosa produce per la città? Non c'è una scuola per registi, non c'è una scuola per attori, non c'è una scuola per progettisti, non c'è... Allora il Teatro Petruzzelli nel suo interno dovrebbe anche coltivare le varie scuole che producono gli attori del teatro. Allora io avrei dovuto avere una maglietta con su scritto l'importo definitivo e la modalità di pagamento saranno concordate e stabilite con l'eventuale aggiudicatario. Cosa c'è che non va in questa frase? Se c'è qualcosa che secondo lei non va? No, no, il problema degli appalti, delle giudicazioni, se cose fatte in fretta, pochi giorni, senza programmazione, non è una questione giuridica, attenzione, è una questione politica. Esatto, ma questo... Non c'è programmazione, gare all'ultimo momento e che estromettono qualcuno perché magari non hai le stesse capacità di qualche grossa azienda. Vai nell'ottica delle cose che ti dicevo io, cioè la politica molto spesso decide all'ultimo momento, ma non è che io dico non penso più alla buona frase. In questo momento c'è il commissario, non c'è la politica, eppure succede uguale. Ma credo che il commissario non sia alieno dalla politica. Anche lui. Anche lui, quindi questo è... Quindi è questo l'arcante, non riusciamo a... Quello che avremmo dovuto capire prima. Ma è chiaro perché le nomine non vengono... Sarà anche una persona preparatissima sotto il punto di vista professionale, non lo metto in dubbio, però se certi fenomeni vengono fatti dalla politica, evidentemente non si è esenti dall'influenza della politica. Ah, questo è allora. Probabilmente ha ragione lei. Saggio come dottor Paolini. Arrivederci. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti.